Un saluto da dottor Palmas ragazzi in questo video vi faccio vedere come riconoscere una clinica che lavora bene da una che lavora male questo è un video molto importante e un tecnicismo che è fondamentale se stai cercando di capire dove curarti all'estero o anche in Italia e devi fare un lavoro di arcata completa per arcata completa si intende quei casi gravi di pazienti che hanno perso completamente la dentatura e il protocollo internazionale standard prevede che i denti debbano essere avvitati sopra gli impianti questo è un piccolo piccolissimo dettaglio che fa tutta la differenza sul lungo periodo il paziente che deve rimettere tutti i denti è un paziente che deve metterli sopra gli impianti dentali è un paziente che può essere curato bene o curato male e questo dipende dal tipo di protesi che gli si monta sopra è un po' come il paragone che io faccio sempre con le automobili come comprare una macchina con le ruote quindi le protesi incollate oppure avvitate nel caso di problemi bisogna poter svitare le ruote o i denti per andarli a riparare a sostituire oppure se si vuole passare a delle linee superiori nei decenni futuri i denti sono infatti la parte protesica che si consuma negli anni che viene sottoposta a usura perché è la parte che lavora gli impianti dentali vengono connessi con i denti attraverso la componente che si chiama abatment o pilastro quando perdiamo un dente si monta sopra l'impianto un pilastro lungo e su di questo si va a infilare sopra a cappello il dente questo è un qualcosa che ci deriva dalla protesi classica su dente naturale infatti su dente naturale si fanno le cosiddette capsule che vengono incollate per il semplice fatto che il dente naturale non ha un foro all'interno per una vite ma ha il nervo all'interno allora l'unico modo di mettere i denti sono denti incollati e cementati quando sono stati creati negli anni 70 gli impianti dentali ci siamo portati noi dentisti dietro i protesisti la tecnica di rimettere sopra l'impianto una simulazione del dente limato che si chiama abatment sul quale veniva incollato poi il dente si è visto poi negli anni successivi che in realtà questo concettualmente non aveva senso perché dal momento in cui avevamo un impianto e dovevamo mettere una connessione quindi un pilastro di connessione il pilastro sarebbe potuto essere semplicemente un piattello sul quale poggiare la capsula e avvitarla in questo concetto di protesi scompare del tutto il cemento la colla che era la parte debole quando si andavano a incollare le capsule perché la colla con i liquidi salivari della bocca si scioglie negli anni dopo 10 anni si scioglie quello che succede è che al posto della colla sotto si infiltra la saliva con la saliva ci sono i batteri tutto attorno all'impianto si sviluppa un biofilm che porta poi la gengiva a staccarsi dall'impianto e viene quella che si chiama la perimplantite questo concettualmente è stato superato quando sono state introdotte anni dopo l'uscita degli impianti le protesi avvitate quando si mettono più impianti quindi non si perde un dente ma si perdono tutti i denti quindi si devono fare arcate complete come quella che vi faccio vedere ora monitor questi sono casi in cui i pazienti ha gli impianti dentali che non hanno vedete qua sotto tutti la stessa inclinazione l'impianto si mette nell'osso là dove c'è osso quello che succede però è che gli impianti hanno tutti gli assi divergenti tra loro allora lì c'era il problema come facciamo a mettere noi una protesi incollata sopra a degli abatment che hanno tutti gli assi divergenti non si può concettualmente non si può l'unico modo che rimane è limare a schifo i monconi pilastri che escono dalle gengive questa è la pratica scorretta che viene fatta da chi non capisce granché di protesi su impianti perché le protesi su impianti non si fanno così come vedete a monitor ovvero non si possono far uscire dalle gengive dei pilastri andarli a limare in bocca e sperare che poi quando si inseriscono le protesi a cappello che concettualmente sono qualcosa di datato di veramente scorretto che queste protesi calzino puff in maniera precisa micrometrica anzi ci saranno delle frizioni dei gap e questi gap avranno un cemento che è molto più spesso di 12 micron che si scioglierà rapidamente nella saliva questi sono degli esempi di protesi che ho trovato su internet potete andare voi sulle pagine facebook dei dentisti che state prendendo in esame fate questo esercizio sfogliate le loro pagine andate a verificare se vedete dalle gengive uscire pilastri come questi quelli sono dentisti che monteranno sopra gli impianti delle protesi con un vuoto vedete qua il vuoto che c'è dentro alla protesi per la colla per poi essere calzate su quei pilastri e incollate se notate queste protesi che ho preso sempre dalla pagina facebook di un dentista albanese non si vedono i fori perché? perché non sono protesi avvitate nelle protesi invece avvitate si vedono i fori i fori sono i passaggi per i cacciaviti che noi dentisti andiamo a utilizzare per stringere le strutture che sono queste che vengono appoggiate sugli abatment esistono quindi degli snodi che si chiamano multi unit abatment e li vedi ora qua a monitor esistono dei gradi di angolazioni differenti perché gli impianti possono avere dentro l'osso delle angolazioni differenti esistono di altezze e spessori differenti perché gli impianti possono essere più o meno sotto gengiva quando il paziente viene da noi in Moldavia e noi andiamo a montare i multi unit sopra gli impianti dentali andiamo a selezionare degli multi unit che non sono tutti uguali ma sono tutti diversi tra loro lo scopo è far tornare la quadra e andare ad avere poi un piatto di snodo sul quale viene poggiata la protesi una volta appoggiata questa protesi sopra agli impianti viene stretta con i cacciaviti la protesi ma non c'è colla, non c'è colla, vi faccio vedere qua la differenza questo è un lavoro pulito dove viene poggiata poi sopra la protesi questo è un lavoro sporco dove dovrà essere infilata la protesi con la colla fate molta attenzione perché questo è un piccolo piccolo dettaglio che fa molta differenza e ora vi spiego perché, perché molti dentisti usano le protesi con la colla il motivo è uno, è uno semplice, che esistono degli impianti che costano meno che sono degli impianti monofasici, ve li cerco per esempio qua allora, impianti monofasici, c'è una sirena di una... questi sono gli impianti monofasici, sono dei monoblocchi praticamente si avvita l'impianto e dalla gengiva uscirà questo perno che verrà limato in bocca al paziente questa è odontoiatria vecchia, antica noi al nostro policlinico non abbiamo mai usato impianti monoblocco o monofasici ma fate attenzione perché nel mondo esistono moltissimi dentisti che usano impianti monofasici questi vanno bene quando si deve mettere un solo dente quando si deve ricostruire completamente la bocca assolutamente questo non è il cold standard a livello mondiale sono viti concettualmente antiche, sono i primi disegni questi di impianti dentali che sono usciti nel commercio e sono stati sostituiti poi dagli impianti bifasici bifasici, ovvero di due fasi che sono composti così da una vite, il pilastro che raccorda poi la capsula o corona sono stati poi inventati dei monconi a piattello come questi che sono i multi unit abatment, quelli che vi stavo facendo vedere del video sono dei connetti sui quali si poggia passivamente la protesi una volta appoggiata la protesi c'è una vite che permette di stringere la corona, la capsula avvitata per esempio corona avvitata, vi faccio vedere ora una corona su un impianto avvitata questa è una corona avvitata su un impianto, queste sono corone avvitate sugli impianti si vede perché hanno i fori di passaggio esistono poi delle corone che sono invece cementate e queste sono delle corone che vengono fatte o perché il dentista usa degli impianti monofasici che costano meno dei bifasici e qui è spiegato tutto quanto oppure utilizza dei pilastri dritti che costano meno di multi unit questi snodi multi unit costano leggermente di più ma permettono di fare delle protesi passive le protesi passive quindi oggi hai capito quelle che sono le protesi passive che devono essere avvitate sugli impianti permettono di mettere protesi fisse senza avere tensioni sugli impianti quando si creano tensioni sugli impianti perché le protesi vengono infilate sui pilastri dritti limati si creano delle tensioni, queste tensioni non fanno bene all'osso che sta attorno all'impianto che verrà riassorbito e si perdono poi gli impianti quindi esistono lavori fatti bene e lavori fatti male questa è una di quelle piccole cose che il paziente non sa perché non è un dentista e che il dentista se in mala fede vuole risparmiare sulle componenti che deve usare tutti i giorni per lavorare non gli spiegherà noi ve lo stiamo spiegando e c'è un motivo il motivo è che noi ci posizioniamo a livello europeo come clinica di fascia alta di fascia alta che fa lavori con standard internazionali non siamo qua per truffare i nostri pazienti ma siamo qua per durare 30 anni e passa e facciamo corsi con dentisti che vengono da noi insegniamo la pratica corretta spero di esserti stato d'aiuto di averti dato una chicca oggi che farà la differenza per te che magari ti stai avventurando nella selva oscura della scelta del dentista non importa se in italia francia germania all'estero croazia fai attenzione che dove tu ti stai orientando vengano utilizzati multi unit abattement che vengano fatte protesi avvitate un saluto da dottor palmas qui dalla moldavia dove opera il policlinico sos turismo dentale un fiore all'occhiello dell'est europa che fa solo ricostruttiva completa della bocca e utilizza i migliori standard a livello internazionale per l'esecuzione di lavori così complessi grazie